Quando mangi questa, ti ricrei. Chi l'ha inventata, l'ha inventata. Noi sa, sentimo proprio nostra. Pecorino, guanciale, pepe, ricatori e uova. Questo è il guanciale quello vero. Levate un po' di pepe sopra. Tagliamo le listarelle. Fatelo sudà, come se stesse entro la sauna. Un uovo intero e un tuorlo. Pecorino abbondante, pepe nero. Vescova tutto. Adesso, dividete il guanciale dal grasso. Con la scuola di troppo, non deve prendere il gusto del guanciale. Adesso abbassa il fuoco, poco poco. E ora qua ci fa il coraggio. La bella nevica di pecorino, il guanciale. Grazie. 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 Grazie.